Sono in debito con voi di un video da un paio di settimane, nel senso che qualche settimana fa ho fatto uscire un video in cui parlavo degli infortunati all'interno dell'Elite Wrestling e ho fatto ovviamente dei conti, dei calcoli dicendo guardate che più o meno il 10% dei lottatori maschi e qualcosina meno in percentuale delle lottatrici donne sono infortunate quindi siamo su una media del 10% che ci può stare tranquillamente nella serie degli infortuni e giustamente mi è stato detto però manca un dato, cioè un dato comparativo con quelli che sono gli altri roster, le altre situazioni e quindi giustamente mi è stato detto cosa ne pensi se si fa qualcosa di un pochino più dettagliato da questo punto di vista per capire se effettivamente 10% è una situazione buona, negativa o media ed effettivamente siamo qua per questo Benvenuti a tutti, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, anche oggi sono qua per parlare di All Elite Wrestling non solo in questo caso ma per fare un pochino un escursus di quelli che sono tutti gli infortunati in giro per le federazioni e ne abbiamo presi in esame alcuni, in realtà il lavoro più grande lo ha fatto Saram, la nostra abbonata la quale ogni tanto viene chiamata in causa e solleticata sulla possibilità di fare qualche video riguardante qualche statistica e lei ha sempre risposto presente, anzi è stata molte volte lei a produrre e a proporre cose che poi sono diventate effettivamente delle basi per i nostri video ed eccoci qua anche oggi parleremo di quello che è un lavoro che ha fatto lei sostanzialmente e che vi voglio assolutamente presentare nel miglior modo possibile perché? Perché faremo una comparazione e da questa comparazione poi partiremo per tirar fuori un ragionamento che è un ragionamento in realtà molto breve, non credo sarà un video estremamente lungo questo che non credo nemmeno avrà bisogno di tanti commenti in realtà sarei contento di vederne tanti che vuol dire che insomma in qualche modo ha sviluppato comunque la vostra curiosità e da lì ripartiremo per descrivere cose nuove io andrei quindi con la sovraimpressione per vedere quali sono i dati in esame allora la AW ha 120 persone a disposizione nel roster maschile ok? All'interno ci sono tutti quelli che fanno parte delle coppie e così via cioè qui sono stati presi singolarmente però comunque sono 120 persone gli infortunati sono 12 e quindi la percentuale di infortunati è del 10% esatta, spaccata in WWE alla SmackDown sono 64 i lottatori maschi a disposizione 12 sono gli infortunati e la percentuale sale molto al 18,8%, quasi il doppio ad NXT gli uomini a disposizione sono 45, gli infortunati sono 0 e la percentuale di infortunati è 0 ad Impact sono 59 maschi, 2 gli infortunati, percentuale 3,4% in New Japan sempre 2 infortunati ma a disposizione ci sono 69 uomini quindi gli infortunati sono il 2,9% dimenticavo di dire una cosa fondamentale so che due giorni fa è saltato fuori per esempio Wesley che ha un infortunio e deve fermarsi quindi NXT risulta con 0 infortunati, non è vero, c'è un infortunato questi dati sono dati riferiti al 24 novembre scorso quindi quasi due settimane fa, due settimane e mezzo fa più o meno per cui, no in realtà due settimane fa per cui, insomma, c'è materiale sicuramente di cui discutere perché le percentuali poi variano di un minimo ma non è che possono variare di così tanto per cui andiamo a vedere su quella fotografia di due settimane fa che sì, può essere variata ma non così tanto perché magari uno rientra da una parte e uno si fa male dall'altro insomma, possono succedere tante cose diverse vediamo le donne invece 33 a disposizione per la All Elite tra le infortunate quindi il 9,1% in WWE sono 40 con 5 infortunate e quindi una percentuale del 12,5% percentuale che sale tantissimo in realtà con NXT dove su 26 ragazze 7 sono infortunate quindi abbiamo il 26,9% a Impact sono 24 ragazze 0 infortunate perfetto, 0% a New Japan sono 10 ragazze considerate a disposizione ovviamente ragazze considerate a disposizione quelle che girano intorno a Strong e quelle che hanno in qualche modo a che fare con il titolo della come si dice IWGP New Women quindi in realtà non è veramente donne a disposizione in senso lato perché vengono utilizzate molto meno rispetto ai maschi però comunque prendiamo questo dato delle 10 donne che hanno fino a questo momento fatto da contorno al mondo del del titolo New Japan Strong e quindi New Japan Strong e New Japan IWGP quindi insomma sono 10 ragazze di cui una infortunata quindi siamo al 10% anche qua e quando sono poche ne bastano poche per alzare la percentuale in totale quindi la All Elite ha una percentuale di infortunati media di 9,8% la WWE di 16,3% NXT 9,9% Impact 2,4% e New Japan 3,8% ora cosa significano questi dati nello specifico? beh, nello specifico significa che i lottatori a disposizione sono sempre soggetti a farsi male indipendentemente da dove vanno a lottare che sia New Japan che sia NXT che sia AEW Raw or SmackDown non cambia niente niente l'incidenza degli infortuni probabilmente è dovuta in parte all'utilizzo dei lottatori in parte allo stress che i lottatori hanno per il dover magari viaggiare tanto durante la settimana o dover fare tante cose e tanti altri fattori che magari non ci vengono forniti o che magari non ci vengono nemmeno in mente ma che a persone più esperte nel campo a cui lascerei volentieri questo tipo di analisi potrebbero venire in mente quindi di base quella che è la Orelita è una mediana precisa precisa che rispecchia tra l'altro quella di NXT che pur avendo diverse persone in meno la metà ha lo stesso tipo di percentuale perché poi alla fine ha la metà degli infortunati preoccupa un po' di più il dato della WWE perché comunque sono tante le persone in box quindi evidentemente anche lì probabilmente la schedule abbondante o comunque i ritmi di allenamento di un certo tipo il fatto di dover apparire in un determinato modo probabilmente fiacca un po' di più quello che è il fisico e la resistenza però di base sono questi dei dati importanti fa strano la New Japan per esempio che a tante persone coinvolte i ritmi sono forse nati e il modo di lottare è molto duro però è anche vero che magari anche gli allenamenti sono diversi anche il come si gestiscono certe cose è diverso e molte volte anche gli infortunati non restano i box a meno che non ci sia davvero qualcosa di grave altrimenti tendono a lottare comunque quindi insomma è abbastanza complicata come vedete questi sono dati comparativi differenti da quelli dell'altra volta dove vi avevo dato solo una questione all'elite e anche qua io ritorno a ribadire un concetto cioè va benissimo pensare agli infortuni come sono causati da questi che cadono sul collo quelli che fanno degli spot assurdi quelli che fanno capriole sui vetri possiamo provare a dire tutto quello che vogliamo la realtà però ciò che resta veramente di ogni ragionamento è che questo è uno sport da contatto questo è uno sport in cui si fanno dei bump quindi ci sono delle cadute ci sono delle situazioni dove ci si infortuna e per quanto sia bellissimo vedere il dato di zero ragazza infortunata a impact sappiamo anche che è un dato relativo a un momento magari lo rifacciamo fra due mesi questo video e le situazioni sono cambiate ecco potrebbe essere un'idea quella di tenerci aggiornati quindi magari ogni 3-4 mesi quindi per vedere anche in vari periodi dell'anno anche in base agli impegni importanti perché voglio immaginare che comunque se la All Elite avrà altri pay per view ravvicinati come All In All Out sarà difficile poi tenerli tutti a freno senza che nessuno si rompa così come evidentemente magari il periodo di WrestleMania potrebbe essere un periodo dove ci si fa un po' più male perché lo stress è più ampio perché ci sono più cose da fare quindi magari ci risentiamo a fine febbraio inizio marzo e proviamo a fare un altro conto di questo tipo e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche altro dato interessante magari facciamo una comparazione con questi e proviamo a vedere se c'è qualcosa se c'è qualche filo rosso che tiene unito tutto è interessante anche i dati delle persone a disposizione non tanti quelli dell'All Elite veramente tanti tanti non vado oltre perché in realtà in realtà non vado oltre meglio così perché non è il momento e perché non ho esattamente le idee chiaro su cosa pensare a riguardo perché è la prima volta che vedo il dato così bello chiaro ed evidente quindi anche io devo pensarci sopra purtroppo non so tutto mi piacerebbe sapere tutto ma non so tutto quindi anche io devo pensare prima di parlare grazie di cuore per aver fatto parte anche di questo video se volete scrivete qualcosa consigliate anche magari altri parametri ovviamente non abbiamo parlato degli infortuni che durano 100 giorni un giorno nove giorni li dipende anche quello potrebbe essere un altro tipo di dato interessante qui stiamo proprio parlando senza faccia senza volti senza posizione nella card niente di chi adesso in questo momento anzi due settimane fa non era possibile per lui entrare su un ring detto questo vi ringrazio di cuore ringrazio i nostri abbonati aiutateci ancora considerate anche voi la possibilità di abbonarvi se non siete ancora abbonati a questo canale per aiutarci ad andare avanti per diventare sempre un po' più forti perché giustamente abbiamo bisogno anche del vostro sostegno per entrare sempre di più a fondo in questo mondo della All Elite Wrestling grazie di cuore a tutti io sono Stefano la voce di questo progetto noi ci risentiamo alla prossima